Ma quello che era triste di più è che questo non è un caso unico, sono tantissimi i casi così. Benvenga la vostra trasmissione che magari riesce a aiutarle. Qualcuno, noi facciamo quello che possiamo. Però il vero problema anche per la sanità, che oltre i tagli nelle isole abbiamo anche tutti gli ospedali, i piccoli presidi che vengono tagliati in montagna, con la gente che ci mette un'ora per arrivare al primo presidio e rischia di morire. Perché prima Librandi ha detto che ci sono stati dove la sanità, niente, uno se la deve pagare. Ho capito, ma gli italiani pagano tasse e anche molte tasse per la sanità, che poi non è come dovrebbe funzionare. Perché anche in una città come Bologna, dove funziona teoricamente bene, nel periodo dell'influenza, la gente faceva 12 ore al pronto soccorso. 12 ore. Per quanto riguarda invece gli esodati, che neanche dovrebbero esistere, perché quella porcata, la riforma Fornero, andrebbe cavata via, è inaccettabile sentire dire che presto arriveremo anche da lei, come mangio una persona, perché avevate distrutto l'Italia, capito? Come ho detto fa il fenomeno, come mangio una persona, come si paga l'affitto, come si paga le medicine, prima un po' ci arriverete. I soldi, quando volete, li trovate, perché per gli immigrati, li trovate sempre, i miliardi da dare agli immigrati. Come voi che avete licenziato 70 persone della Padania, o quelli del partito che li state licenziando. Vabbè, torniamo dagli esodati, che così li sentiamo, va.